Ancora qualche ora e poi inizierà la caccia alla fare. Dal 5 gennaio infatti nella regione Lazio prenderanno il via i saldi invernali. Intanto è già iniziata la ricerca di capi d'abbigliamento da acquistare in promozione e l'esplorazione dei cartellini per verificare se realmente i prezzi saranno abbassati. La Confcommercio torna a ricordare le regole base per un corretto acquisto per quanto riguarda il cambio della merce, la prova dei capi in vendita e l'obbligatorietà da parte del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.